un'attualità di anziano della compagnia delegato dal capofila quando parte lui partiamo tutti il culino sta arrivando un'arrampicatrice ho visto che arrampica vale che cazzo fai che ne avevo detto che ne avevo detto monella si una monella un'arrampicatrice 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 c'è di bello le luci babanatale i sassi quindi vedi solo tu e quindi posso fare come voglio un'arrampicatrice 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 C'è qualche traviata sotto C'è qualcosa che non qua Vai 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 A few moments later A few minutes later A few inches later Twelve seconds later Three days later Quando passi la devi raccogliere con una mano Six and a half hours later Abismo Zappo a vigna Sì 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 sono il fisico di là, di là Ah, che merda! 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 Ah, che merda!